Siamo molto contenti di rinnovare questo appuntamento, siamo arrivati molto contenti della collaborazione dell'anno scorso con il Comune che ci ha supportato anche quest'anno. L'iniziativa si mette praticamente a livello nazionale promossa da McDonald's Italia, quindi che prevede l'organizzazione di queste giornate per contrastare l'abbandono di rifiuti in tutte le città d'Italia dove c'è un ristorante McDonald's. Quindi noi eravamo veramente contenti di continuare a contribuire per questa comunità che tutti i giorni ci offre tanto.